Ogni tanto una gioia, le notizie felici della settimana con Marina Nicola. Benvenuti, benvenuti. Non vi siete sbagliati, non è una puntata degli X-Files, siete su Ogni Tanto Una Gioia con Marina e Nicola. Ciao, quello che avete sentito era il rumore del buco nero. L'altra volta eravamo rimasti un po' così perché non avevamo il file, l'abbiamo cercato e ve l'abbiamo fatto sentire. Quindi queste sono le onde dell'universo che erano state ascoltate. Molto inquietante, vero? Sì, un po' sì. Però credo che possa anche essere un po' rilassante, sembra molto... Sì, sì, non lo so, dipende. Se l'ascolti tipo al buio, una notte di Halloween fa un po' paura, secondo me. Però se l'ascolti al mare, in tranquillità... Fa un po' anche quello di quelle musiche elettroniche, un po' industrial. Sì, sì, è vero, la useranno come base. Non mi dispiace. E ora, bando alle ciance, di cosa parliamo? Allora, oggi iniziamo parlando del contrario... No, in realtà no, perché pensavo tipo al contrario di un buco nero, perché parliamo di bianco, però parliamo anche di nero. Sì, per i colori. Esatto. Quello di cui parliamo è che a Wimbledon, per la prima volta dopo 146 anni, ci sarà un cambio nel dress code per le atlete appunto che competono nel tennis. Infatti, Wimbledon è conosciuto, e in generale il tennis, per appunto avere sempre questi vestiti bianchi, molto eleganti e molto riconoscibili. Sì, c'è proprio l'obbligo, il total white. L'obbligo appunto è il total white. Però negli ultimi anni era nata una battaglia da parte delle giocatrici donne, per permettere di avere anche degli indumenti intimi di un colore un po' più scuro. E' particolare appunto per evitare che durante i giorni delle mestruazioni potessero avere degli incidenti o comunque sentissero il disagio e quindi questo portasse via la concentrazione dal gioco. E quindi appunto hanno mosso questa petizione ed è stata accolta. Quindi da ora in avanti si potrà scegliere il colore della biancheria intima. Sì, comunque con alcune limitazioni deve essere un colore neutro, tinta unica e comunque non deve vedersi sotto le gonnelline bianche. Poi ovviamente si piega, si gira nel tennis, è molto movimentato, però diciamo che in generale per le foto, quelle ufficiali, non si dovrebbe vedere sotto. Certo, diciamo che ufficialmente non è cambiato nulla, ma in realtà è cambiato tanto perché le atlete femminili finalmente potranno concentrarsi solo sulle partite che devono fare durante il periodo in cui hanno le mestruazioni. E ti dirò una curiosità sul bianco, cioè perché si usa il bianco? Perché hanno... Gli inglesi sono strani. Gli inglesi sono strani e sono iperperfezionisti e anche troppo. Però il bianco effettivamente è un colore che con il sudore accentua di meno gli aloni e le macchie, quindi li fa vedere di meno. Ma anche il nero se è per questo, no? Ma anche il nero, ma si vede che il nero sotto il sole poi si accaldavano troppo. Invece il bianco è un colore fresco comunque e per questa particolarità degli aloni di Surya è stato scelto come colore rappresentativo di Wimbledon e come, diciamo, colore unico con il quale ci si poteva vestire. Poi ovviamente anche il pubblico ha un dress code, quindi è tutto super studiato lì. Davvero? Non hanno i cappelli? No, cos'è? Quella è un'altra cosa, è la Corsa ai Cavalli che hanno i cappelli? Esatto, lì le donne hanno l'obbligo del cappello, no, nel senso un abbigliamento sportivo, non troppo trasandato, non scarpe da ginnastica sporche, insomma bisogna starci attenti. È il mio incubo, io sono una persona incredibilmente sbrodolona, credo che se il dress code fosse solo bianco e solo cose non sbrodolate... Veramente, e l'obbligo delle uniformi bianche è partito proprio dal primo torneo che si è fatto, quindi 1877. Vietati i colori, vietati le sfumature, vietate le sfumature di bianco, quindi bianco puro. Questo l'avevo letto, sì, niente beige, niente... Niente beige, no, nulla, zero. Finalmente si sta muovendo qualcosa anche in questo campo, sono solo formalità. Assolutamente. Non servono a molto e quindi almeno c'è la più libertà nel scegliere. Le atlete femminili saranno agevolate. Abbiamo tolto un impiccio. Sì. Invece per la seconda notizia vi portiamo in Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda vieta i sacchetti di plastica, avete presente quelli al reparto frutta e verdura per contenere appunto la frutta che si vende? Ah, quelli che famosamente costano 0,01 centesimo, grande battaglia prima del covid. Esatto, a partire da sabato scorso la Nuova Zelanda ha vietato questi sacchetti, queste tipologie di sacchetti, perché io non credevo. Però in realtà questo paese produce molta plastica, quindi ha proprio un problema con la produzione della plastica a Nuova Zelanda. E infatti sono state varate tutte queste politiche per renderlo plastic free. E nell'ambito alimentare, in questo caso dei supermercati, si è cominciato da questi sacchettini di plastica che effettivamente sono tantissimi. Ora io non so se qui, quei sacchettini lì, sono biodegradabili. Ma sì, io credo che da noi siano biodegradabili. Non sono plastica pura da noi, quindi proprio loro erano abbastanza indietro. E sono proprio plastica pura? Loro erano proprio plastica pura, e quindi hanno fatto bene a toglierlo. Il primo ministro dell'ambiente, che si chiama Rachel Brooklyn, è convinta della decisione, perché ovviamente questa decisione ha sollevato delle polemiche. Insomma c'è l'opposizione di governo che dice smetteranno di utilizzare i sacchetti di plastica, ma utilizzeranno i sacchetti di carta e quindi avremo un problema con i sacchetti di carta. Ma in realtà la ministra dell'ambiente è fermamente convinta che questa sia la decisione giusta e anzi la catena di supermercati neozelandese Countdown ha iniziato a vendere borse di rete in poliestere che possono essere ravate e riutilizzate fino a 5.000 volte. Ma sì, alla fine quella scelta giusta sarebbe appunto permettere alle persone di utilizzare le proprie. Esatto, ma infatti è talmente semplice la cosa, cioè utilizzate le vostre di stoffa, le lavate. Esatto. Quindi voglio dire, sarebbe anche facile. O anche per le persone di toccare, l'altro problema è che non possiamo per qualche motivo stoccare la frutta con le mani, che poi comunque viene lavata, quindi io personalmente sono dell'idea che è... Sì, ma anch'io, cioè alla fine, se non hai particolari problemi, è un'attenzione quasi inutile quella. Sì. Anche i famosi guantini, uno se li potrebbe risparmiare. Sì, anche perché prima di essere attaccato ai guantini vai girata e rigirata in 20.000 posti. E loro pensano che adesso arrivano all'opposto perché vogliono anche utilizzare o arrivare a creare dei sacchettini riutilizzabili per frutta e verdura, proprio esclusivamente per quello. Ah, esclusivamente per la frutta e verdura. E quindi vedremo, seguiremo questa faccenda neozelandese e vi faremo risapere. Perfetto, molto bello. E anche la nostra ultima notizia parla di ambiente e parla in particolare, appunto torniamo in Inghilterra, dove alcuni allevatori hanno scoperto, cioè hanno scoperto gli scienziati però in favore degli allevatori, che un estratto di narciso dato alle mucche può ridurre fino al 90% l'emissione di metano. Perché, come sapete, le mucche sfortunatamente per la loro natura produrono un sacco di metano. E uno penserebbe che è una cosa stupida, come fa ad avere un impatto sull'ambiente, però invece ce l'ha, soprattutto perché nel mondo appunto l'allevamento e la produzione di carne, la produzione di carne bovina è molto aumentato negli anni, proprio aumentata la richiesta. E a parte del suo impiatto ambientale, a parte quello appunto di dover creare grossi spazi per l'allevamento e grosse quantità di mangimi che vanno anch'essi a togliere spazio poi ad altri tipi di culture, è proprio il fatto che le mucche stesse stanno lì tutto il giorno e ruminano e poi sfortunatamente producono un po' di metano. Poveri mucche. Poveri mucche, sì. Però mentre appunto erano alla ricerca di, in realtà, un integratore alimentare per l'Alzheimer, dalle piante del narciso, che è un bellissimo fiore, hanno appunto trovato questo integratore che, ora siamo ai primi fasi di sviluppo, quindi l'hanno provato su degli stomaci sintetici, in realtà, di mucca, però appunto ha dato questi ottimi risultati e quindi ora dovremmo passare alla fase di sperimentazione in vivo con le mucche e si spera che questo appunto possa essere un'efficace, rimedio, almeno una parte del problema dell'inquinamento dovuto all'allevamento bovino. Certo. E addirittura appunto ascoltavo sulla BBC che se dovesse risultare poi efficace sarà obbligatorio per tutti gli allevatori dell'Inghilterra utilizzare questi integratori. Beh, ottimo. Alla fine, se basta somministrare un integratore per ridurre la CO2 del pianeta, insomma, è anche poco. Ecco. E leggevo che a livello di studio in vitro, quindi sono così sintetico, la riduzione del metano è stata alta, più del 90%. Sì, sì, nel 90%, ovviamente. In natura si aspettano un 30%, ma è comunque buona. Io ogni tanto ho dei problemi di intestino, mi chiedevo, ma funziona anche sugli esseri umani? Gli lo chiederemo, glielo chiederemo. Sarebbe interessante, se nessuno ha studiato questa cosa. Assolutamente. No, vi dico anche qualche curiosità sul metano e sulle mucche. Praticamente le mucche, si dice, gli animali d'allevamento, insomma, emettono tra i 70 e i 120 kg di metano all'anno. Quindi, insomma, tanto, veramente tanto. E questo gas aumenta drasticamente l'effetto serra. Ecco perché bisogna porre attenzione sull'allevamento, sulle condizioni in cui si allevano questi animali, sulla quantità. Insomma, anche questa è una questione da attenzionare, perché anche da questo dipende il futuro del pianeta. Anche questo vuol dire essere sostenibili, no? Esatto. Nei modi più insospettabili si può essere sostenibili. Esatto, esatto. Anche il Narciso ci aiuta in questo. Anche il Narciso, anche un fiore molto bello, molto elegante. Molto bello. Per oggi abbiamo finito e quindi ci sentiamo la settimana prossima con altre importanti novità che vi renderanno felici e contenti. Esatto. Mandateci un messaggio vocale con la vostra notizia felice della settimana. O scriveteci la vostra notizia felice della settimana e la leggiamo noi. Esatto. O mandateci un suono interattivo che indica la vostra notizia felice della settimana e noi lo interpreteremo come i nostri nuovi poteri psichici. Esattamente. Ci stiamo attrezzando. Poi mi raccomando, idratatevi e non state sotto il sole. Esatto. Ciao, ciao. Ciao, ciao.